Il corretto licensing è per te che offri servizi IT da un tuo private cloud. Microsoft, come del resto anche tanti altri brand, divide la tipologia di licensing per chi rivende licenze ad un cliente e per chi invece offre da un proprio cloud servizi a terzi. Nel senso che la rivendita delle licenze, tipicamente ormai oggi con un contratto CSP, presuppone l'intestazione della licenza al cliente e la gestione su un hardware interamente dedicato a questo cliente. Mentre tramite il contratto SPLA tu provider hai la possibilità di intestarti le licenze, installarle su un hardware da te gestito e offrire servizi ai tuoi clienti di hosting. www.microsoft.com